Addio a Leonilde Nana, la donna più longeva della provincia di Sondrio con i suoi 106 anni. Punto di riferimento per l'intera comunità di Lanzada, molto amata da tutti i suoi compaesani, in particolare i più anziani che spesso l'andavano a trovare. La vogliamo ricordare con le foto della festa organizzata per il suo compleanno il 4 gennaio scorso. Leonilde, lucida fino all'ultimo giorno, si è spenta ieri nel letto di casa accanto ai figli e la nipote che si è sempre presa cura di lei. I funerali si terranno domani mattina alle 10 nella chiesa parrocchiale di Lanzada ad ufficiarle l'affezionato nipote don Alfonso Rossi.